Devo dire che abbiamo trovato l'ospedale in perfette condizioni, l'ospedale è stato separato dal pulito e dallo sporco, come viene chiamato dai medici e paramedici. Dopo tutto questo attacco che c'è stato dalla controparte politica e delle opposizioni, devo dire che l'ospedale, come dicono e attestano i medici, è più che sicuro. Quindi invitiamo tutti a tornare, non diciamo alla totale normalità, ma di venire sia per le prestazioni mediche che non presso l'ospedale Mazzini. Voglio ringraziare tutti i sanitari e tutti i medici per l'immenso lavoro e il duro lavoro che da gennaio ad oggi non hanno fatto alcun giorno di ferie. Grazie. Anche oggi qui all'ospedale di Teramo contagiati zero, questo fa ben sperare per il futuro? Questo fa sì che è buon sperare perché anche oggi sulla provincia di Teramo zero contagi, ma sono da diversi giorni che ormai non ci sono più contagi, contiamo 0, 1, 0, 0 da diversi giorni. La cosa molto importante è che da 10 giorni ormai non ci sono più ricoveri covid gravi.